Tanti fedeli provenienti da tutta la diocesi non sono voluti mancare alla tradizionale festa di San Paterniano. Per tutta la mattinata hanno affollato la basilica per pregare il Santo Patrono. Il Vescovo nel solenne pontificale ha toccato tante tematiche, dall'economia la necessità di rafforzare la nostra identità sociale, umana e cristiana. La nostra gente oggi respira un profondo senso di paura per la difficile crisi, la più grave del dopoguerra. Da questa crisi non usciremo né all'improvviso né troppo in fretta, sarà necessario modificare il nostro modo di pensare e di vivere. C'è bisogno, ha sottolineato il Vescovo, di un punto chiaro e preciso per tutti, che probabilmente ha il suo inizio nella riscoperta del bene comune. Come membri della comunità religiosa e civile, ha proseguito ancora Monsignor Trasarti, siamo convinti che sia necessario fare appello a tutte le risorse morali e spirituali, per guardare con più serenità e determinazione al presente e al futuro. Non possiamo vivere il tempo che ci è dato come una condanna. In conclusione, Monsignor Trasarti ha sottolineato il desiderio espresso anche al convegno pastorale di Ocesano, una chiesa umile, misericordiosa, coraggiosa, affidata e conciliare.